Nicole Pedrotti qui ha messo su tela una scommessa, quale scommessa? C'è questo signore che come scommessa chiede a un ragazzo di scommettere che se avesse acceso dieci volte l'accendino senza andare a perdere un colpo gli avrebbe regalato la sua auto, se avesse perso invece gli avrebbe tagliato un dito, il mignolo. E questo ragazzo non accetta l'inizio ma poi dopo il vecchietto lo fa sentire a disagio finché accette, salgono in camera, prepara il tavolo per tagliare il dito se avesse perso, gli fa iniziare a accendere l'accendino finché non viene, arriva il numero 8 e viene bloccato dalla moglie del signore che torna di corsa e spiega che ormai sono anni che va avanti con queste scommesse, che ormai a casa gli sono rimaste solo 42 dita e ha perso tutto il resto a forza di scommesse e quando gli ridanno le chiami della macchina alla signora vedono che gli sono rimaste solo 42 dita da tutte le macchine. L'avete provato anche voi a fare questo gioco? No. No.